Cinque risultati utili consecutivi e un grande momento di forma per entrambe, anche se con obiettivi differenti. L'Atletico Terme Fiuggi vuole consolidare la zona playoff, il Castelnuovo-Vomano, evitare quella play-out. A sette giornate dal termine non si può più sbagliare, è il momento di fare sul serio. Dal capo ai prati di Fiuggi, ventisettesima giornata di Serie D, girone F, questa è Atletico Terme Fiuggi-Castelnuovo-Vomano. Buon pomeriggio da Francesco Mancini e Marco Daguanno. Inizia qui la partita con il calcio d'inizio, Ludovici sul punto di battuta. Ancora il pallone, cercare nel mezzo la prima conclusione pericolosa, il palo, con Novi che era sulla traiettoria. Ancora densità, alla fine della battuta 2 con Manari, traiettoria interessante. E attenzione alla rovesciata di Soe, non era male, pallone di poco all'alto. Un Fiuggi che ha fatto un ricambio importante nel mercato invernale. Attenzione al traversone, non è male, un colpo di testa, una serie di ribattute. Alla fine c'è la deviazione in porta decisiva. Si porta in vantaggio la formazione di casa su una serie di batti e ribatti. Aveva colpito anche Soe. De Gidio fa valere la propria tecnica, rientra sul sinistro, poi va sul destro. Grande qualità, il pallone passa Colino, riesce. Poi il salvataggio sulla linea miracoloso e prodigioso di Jakubiv. Insieme a Sparvoli è uno dei più esperti di una squadra molto giovane. Attenzione alla traiettoria sul secondo palo. Emili, prodigioso intervento in uscita di Novi. Decisivo il portiere del Fiuggi. Va sul primo palo dove era ben appostato un giocatore del Fiuggi che ha messo fuori. Poi ancora pallone interessante nel mezzo. La traversa con Novi che sembrava non arrivarci. Guarda il cronometro, è iniziato il secondo tempo di Atletico Terme Fiuggi-Castelnuovo-Vomano per Emili che può mettere a terra questo pallone. Sta variando ancora il 10. Poi Sanseverino, tiro cross, interessante con Novi che rimane sulla traiettoria. In questo inizio, in questo secondo tempo, ancora il traversone teso. Frabotta, allontana come può. Ancora il traversone nel mezzo, si salva Montesi. Poi una rovesciata, in qualche modo ancora Jakubiv. Poi De Gidio si gira, in qualche modo continua a lasciare il cuore. Non c'è fallo, quindi contropiede. Attenzione perché è un 3 contro 2. Vediamo come gestirà il contropiede del Fiuggi. Bellissima azione personale ancora. Va direttamente in porta. Il destro poi sull'esterno della rete. Poi De Gidio, 1-2, ancora cercato con Emili. Poi il pallone buono per Ludovici. Bubalo, poi il Morelli sul secondo palo. Ancora Novi si distende e in due tempi agguanta il pallone. Quindi ultime possibilità per il Castelnuovo Umano. Ancora con De Gidio, il pallone in mezzo. Bubalo non arriva, il colpo di testa. Rizzitelli prosegue ancora il 4. Partita generosissima, poi riesce a vincere anche il rimpallo. Ancora Rizzitelli, prova con il sinistro. Applausi comunque per il capo ai Prati, ma conclusione centrale. Finisce qui il Fiuggi. Conquista tre punti importantissimi. Vincendo per 1-0 decide la rete di Prosperini. Ancora seconda vittoria consecutiva per la formazione di Romondini che sale a 47 punti. Il prossimo turno sarà il 14 aprile prima di Pasqua. L'Atletico giocherà a Vasto Girardi.